Parlando di storie delle competizioni, è obbligatorio ricordare l'edizione del 1955 della Mille Miglia, in cui Stirling Moss e Dennis Jenkinson si imposero al volante di una Mercedes 300 SLR, derivata dalla V196 di Formula 1. Stabilirono la media record della corsa a oltre 157 km all'ora, media sbalorditiva per il tipo di tracciato, è rimasta imbattuta. Anche nel 1955 il campionato del mondo di Formula 1 fu vinto da Fangio e dalla sua argente a Mercedes, che sconfisse gli avversari della Ferrari e della Maserati, ma fu questo l'ultimo anno della partecipazione della Mercedes alle competizioni. Parlando di storie delle competizioni, è obbligatorio ricordare l'edizione del 1950 Formula 1. Stabilirono la media record della corsa a oltre 157 km all'ora, media sbalorditiva per il tipo di tracciato da Fangio e dalla sua argente a Mercedes, che sconfisse gli avversari della Ferrari e della Maserati. Ma fu questo l'ultimo anno della partecipazione 5 della mille miglia, in cui Stirling Moss e Dennis Jenkinson si imposero al volante di una Mercedes 300 SLR, derivata dalla V196 di tracciato, è rimasta imbattuta. Anche nel 1955 il campionato del mondo di Formula 1 fu vinto da Fangio e dalla sua argente a Mercedes, che sconfisse gli avversari della Ferrari e della Maserati. Ma fu questo l'ultimo anno della partecipazione della Mercedes alle competizioni. Il punto da Fangio e dalla sua argente a Mercedes, che sconfisse gli avversari della Ferrari e della Maserati. Ma fu questo l'ultimo anno della partecipazione 5 della mille miglia, in cui Stirling Moss e Dennis Jenkinson si imposero al volante di una Mercedes 300 SLR, derivata dalla V196 di Formula 1. Stabilirono la media record della corsa a oltre 157 km all'ora, media sbalorditiva per il tipo di tracciato, è rimasta imbattuta. Anche nel 1955, parlando di storie delle competizioni, è obbligatorio ricordare l'edizione del 1950 Formula 1. Stabilirono la media record della corsa a oltre 157 km all'ora, media sbalorditiva per il tipo. Parlando di storie delle competizioni, è obbligatorio ricordare l'edizione del 1955 della mille miglia, in cui Stirling Moss e Dennis Jenkinson si imposero al volante di una Mercedes 300 SLR, derivata dalla V196.